La prima donna sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, spera di diventare la prima donna presidente. L'annuncio della sua candidatura alle elezioni del 2022 è arrivato a Rouen e non è un caso. Lontano dall'Hotel de Ville, per non rimanere ancorata una proposizione parigi-centrica e nella città che ancora alza il drappo socialista. Faccio appello a voi, cittadini, a quelli che vogliono salvare il pianeta, a quelli che vogliono costruire una repubblica forte e giusta, a quelli che vogliono che la Francia torni ad essere un modello di nazione. Quindi, insieme, ci risolleviamo e con coraggio, determinazione, ottimismo e generosità offriamo un futuro luminoso ai nostri figli. Hidalgo ben rappresenta la polverizzazione dell'offerta elettorale progressista. Se il decisionismo della destra si traduce nella candidatura della leader del Rassemblement National Marine Le Pen, che ha annunciato la discesa in campo, i volti della sinistra si moltiplicano. In corsa, Jean-Luc Mélenchon, di France Insoumise. Fabien Roussel, designato dai militanti del Partito Comunista lo scorso maggio. Arnaud Montebourg, ex ministro ed ex socialista, che ha deciso di correre da solo. Per i verdi bisognerà invece attendere l'esito delle eco primarie. Uno dei cinque candidati parteciperà alla competizione elettorale del 2022.